Da quello che mi risulta, se ci sono state delle offerte, siamo lontani ancora molto dal valore dei giocatori, aperto e chiuso a parerci sul discorso di se ci sono state delle offerte. Siamo fatti una chiacchierata, lo trovo anche abbastanza sereno, non mi nascondo, vi ho ribadito due concetti un po' su come la pensa la Fiorentina, lo sapete anche voi, non ragioniamo su tante cose, un ragazzo mi ha detto che ha espresso la volontà di rimanere a Firenze, quindi già questo mi fa abbastanza contento, se tra la prossima si incontreranno le nostre persone con tutti i nostri dirigenti, con tutti i nostri proprietari, ci devono essere promessi. Lei scusi, non risulta un'offerta da parte degli 8 milioni? No, no, mi risulta, come mi hanno detto i miei, mi risulta un'offerta, io ti ribadisco se le cifre di preciso non le so, però da quello che mi risulta vi confermo che siamo lontani dalla valore dei giocatori, quindi molto distanti. Però se l'offerta fosse 8, lo intende lei una cifra troppo bassa? 8? Dici tu. Se quella è l'offerta, se quella è, certo, siamo lontani. Grazie.